Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Cantieri estivi sulle ferrovie regionali, partiamo dalla FL4, dove sino al 31 agosto i treni regionali di Trenitalia delle linee Roma-Velletri, Roma-Albano e Roma-Frascati subiranno cancellazioni o limitazioni a Ciampino. È previsto un servizio di bus sostitutivi tra le stazioni Ciampino e Velletri, Ciampino e Albano e Ciampino e Frascati. Sino all'8 settembre poi RFI effettuerà lavori di ammodernamento e rinnovamento tecnologico sulla linea Attiliano-Viterbo-Cesano. Gli interventi comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria tra Cesano e Viterbo-Porta Fiorentina. Il collegamento verrà comunque assicurato da Bus Navetta.